Ciao a tutti, d'Anteprima Cinema! Vediamo il trailer di Animals United 3D, subito dopo le news di oggi! Non fate un altro! Billy! Ehi, tutto sotto controllo, boccancino mio! Ma ora... L'acqua che scende ogni anno a Valle dovrebbe già essere qui! Per salvare il pianeta... La mia famiglia ha bisogno di acqua! E tu vieni con me! Gli animali miscono le forze! Ma dai, a chi vuoi che importi di noi? Dobbiamo rassegnarci! E insieme sono inarrestabili! Brutti musi, non avete nulla di meglio da fare? No! Eh, no! Stanno per scoprire che... I puzzi sono ormai asciutti! Per risolvere i problemi più giganteschi... Ecco dove intrappolano la nostra acqua! Basta un piccolo contributo di tutti! Un orso volare in Africa? E... Un pollo! Non permetterti mai più di chiamarmi pollo! Dammi 5! Animals United! Avanti, dobbiamo fare qualcosa! Preparatevi! A rimettervi in forma! Senza l'acqua! Andremo incontro a morte scerta! Qual è il piano B? Scappare a zampe levate! Ecco la puzzetta! Senza tanti giri di parole credo tu mi abbia convinti sulla necessità di aria pulita! In guardia! Si comincia! Mio padre è davvero unico! Animals United 3D! Gli uomini si trattano come... Animali! Da gennaio al cinema! Che ultrafigata! Arriva nelle nostre sale il 21 gennaio, Animals United 3D, film di animazione tedesco distribuito da Movimax. Tutti gli animali della terra hanno deciso di unirsi per difendere l'ecosistema, sempre più a rischio. Così orsi, leoni, giraffe e molte altre specie animali si mettono in marcia verso New York, per partecipare alla conferenza mondiale per l'ambiente e far sentire agli uomini le loro ragioni. Singolare iniziativa di Tim Burton. Il regista ha dato vita ad un progetto di scrittura sul social network Twitter per realizzare uno script collettivo intitolato Exquisite Corpse. Il soggetto della sceneggiatura è la storia di Stan Boy, il personaggio che appare nella raccolta delle poesie di Burton, morte malinconica del bambino ostrica. E per oggi è tutto, arrivederci d'Anteprima Cinema.